Siamo qui con Davide Tessa, siamo nello stand di Infinity Cosmetics, ci parlerà un po' di questa azienda, siamo qui a Esteticamente in Fiera. Allora Davide, per la prima volta sei in Puglia con la tua azienda, parlaci un po' di com'è nata, di come ti trovi qui. Allora, innanzitutto ci troviamo benissimo, siamo già presenti nel mercato qui pugliese, in cui crediamo fortemente, e oltre il mercato della Puglia, dove vengono i visitatori qui in Fiera, questa è una fiera che abbraccia un pochino tutto il sud Italia. Noi siamo un'azienda totalmente paid in Italy, dal 2013 siamo presenti in tutta Italia, quindi in tutte le regioni, e localmente ci piace proprio far conoscere quello che è la nostra filosofia e quello che vogliamo portare per quanto riguarda la bellezza delle donne. E oggi abbiamo il piacere di avere qui una nostra amica, che è innamorata dei nostri prodotti, e sono felice che sia qui con noi oggi. Miriana Trevisana, no, lo dico io perché... Benvenuta Miriana. Ma come bravura e come prodotto è veramente il massimo, sì, noi siamo un gruppo di donne che lavorano in questa società, ma ne abbiamo tantissimi due giorni, no, io in modo particolare mi seguo, diciamo, un po' di tutte le regioni, adesso guardate, ho il tutto, è adattissimo, e loro sono sempre avanzatissima, un gruppo di buoni, anallertici, siamo legati non solo con questi che per lavoro ci vogliamo, vogliamo essere belle, ma anche perché sono veramente all'avacquaglia, e quindi siamo arrivati anche in Coglia, che dal Menda Sol, in questa fiera che veramente diventerà un punto nevraltico nei prossimi anni, e non poteva mancare Infinity, neanche Miriana Trevisana. E qual è il tuo trucco preferito, qual è quello che più ti piace indossare? Ah, dunque, io adoro truccarmi, trucco tutte le mie amiche, comunque quest'anno con InterSterla mi sto divertendo tantissimo, specialmente la sera, anche perché mi piace esagerare, e quindi lo posso fare. Inoltre, i fondotinta, che ha Infinity, mi rendono una pelle veramente unica, e durano tutta la serata, quindi ragazzi, a ballare tutta la notte. E qual è il consiglio che dai alle donne per quanto riguarda l'estetica? Per quanto riguarda l'estetica, le donne, dico, di non trascurarsi, anche solo un rossetto, come faceva mia nonna la mattina, un minimo, un minimo, pensiamo a Cleopatra, pensiamo a queste donne che si sono sempre curate, che si sono tinte i capelli, perché no? Sempre però con la propria personalità, ok? Con la propria personalità, quindi truccatevi come volete, ma curatevi. Quindi, ecco, ritorniamo a te, Davide. Qual è la tua prospettiva per quanto riguarda questa azienda, quindi non solo nel Lazio, ma anche in tutta Italia, quindi di espandosi in Italia? Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia, e inoltre è una realtà che è nata, diciamo, qui in Italia, ma oggi esportiamo in 22 paesi nel mondo, e come novità ci stiamo affacciando a quello che è il mercato americano, che ad oggi, diciamo, è un pochino il punto di riferimento del make-up a livello mondiale, dove Infinity è stata apprezzata tantissimo. E quindi questa è la prospettiva di quest'anno, consolidando sempre quello che è il nostro mercato italiano, dove noi siamo nati e dove siamo cresciti, e siamo qui in questa fiera, che è la prima edizione a cui noi partecipiamo, ma sicuramente ci rivedremo al prossimo anno. Ok, quindi non è stato che augurarvi veramente una grande fortuna qui in Puglia, e non solo. Vi chiedo anche di fare un saluto per i lettori del giornale di Puglia. Alludiamo il giornale di Puglia, grazie mille di essere stati qui con noi. Un abbraccio avvolgente a tutta la Puglia e al giornale di Puglia, la Miriam.